Le matite ci accompagnano dalla nostra teneretà, fino alla fine della nostra vita. Ma sai quanti tipi ce ne sono? Sei sicuro e sicura che stai utilizzando la matita esatta per i tuoi lavori? Per quali illustrazioni o tecniche si possono utilizzare? Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Auryn Art e oggi parliamo di matite. Nel corso della mia vita ho avuto l'occasione di fare innumerevoli ritratti e non con le matite graffite. E quindi oggi sono qui per stilarvi tutto ciò che ho imparato in tutti questi anni. Ma perché proprio le matite? Beh, perché è una delle prime cose che bisognerebbe imparare ad utilizzare, anche perché così alleniamo la nostra mente e la nostra mano a ritrarre dei soggetti. Pensavi forse che questo video fosse gratis? No, no cari miei. Vi costerà un'iscrizione, quindi non fate i furbi, io vi osservo. Detto questo passiamo alle doverose domande. Cosa sono le matite graffite? La graffite è un minerale costituita da carbonio. Successivamente alla grafitazione si aggiunge del clay, nonché una pasta modellabile sintetica, per ottenere la formula grigia che viene poi contenuta nelle nostre carissime matite. Ne abbiamo veramente di tutti i tipi oramai. Ad esempio con la mina in metallo, o che ne so, le matite tecniche, quelle che si usano principalmente in architettura, o ancora la nostra amatissima lapis classica. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Come faccio a capire quale matita si adatta meglio al mio scopo? Quando compri un set di matite ti accorgerai che sull'estremità ci saranno stampati dei caratteri alfanumerici. Il riassunto è una scala in cui B sta per blackness. Più alto è il numero davanti alla lettera B, più morbida è la matita. In pratica hanno una maggiore quantità di grafite per rendere il tratto più scuro. Successivamente troviamo la H, ovvero hardness. Più in alto è il numero prima della H, più dura sarà la mina all'interno della matita. Queste matite sono state costruite con più percentuale di clay per renderle dure e con il tratto più chiaro. Questa loro composizione rende il tratto della mina più adatta ad attaccarsi sul foglio. Ciò significa però anche una maggiore difficoltà a cancellare. Cosa che però potremmo assolutamente evitare soprattutto con una giusta gesture. Ed è un argomento che ho trattato nel libro... nel libro... nel video precedente. Troppi libri. Ve lo lascio qui o sotto in descrizione oppure... Questa è la copertina comunque. Questa scala spiazza dai 10H fino ad arrivare alla 10B. E al centro troveremo il perfetto mix, ovvero la famosissima HB. E anche la non famosissima F. Così. Che senso ha mettermi una F in mezzo alla scala? È come la zitta dell'Xbox che una volta lanciata la prima console, anziché di produrre una sensatissima Xbox 2, uscisse una roba tipo... Boh... Xbox 360. Scherzo. La F sta per Fine Line Pencil, che non è altro una via di mezzo tra una HB e una H, ma che in realtà, opinione personale, hanno delle differenze veramente impercettibili. Successivamente ci chiediamo... Come accompagniamo questa matita? Bene. Ora che abbiamo stilato l'intero range di tutte le matite e abbiamo messo in chiaro che cosa sono, andiamo a capire anche cosa possiamo aggiungere. È una figata avere 22 matite. Ma servono esattamente tutte e 22? Assolutamente no. Infatti, molti set vengono venduti con al massimo 6, 10... Non troverete così facilmente un set da 22 matite. Tipicamente io uso, appunto, dalle 3 alle 6 matite 7 massimo, tra cui la 2H, la HB o la F, la 2B o la 4B ed infine la 6B oppure la 8B. E se voglio esagerare con il contrasto, uso anche il carboncino, ma mettete in conto che spesso il carboncino non si amalgama bene con la graffite, soprattutto se non si ha un buon controllo dello shading. In addizione si possono utilizzare moltissimi strumenti alla graffite. Ad esempio la comunissima gomma da cancellare, sempre utile ad averla a portata di mano. Ed il mio consiglio è di provarla sempre, sempre su un foglio a parte per vedere se è funzionante al modo giusto, perché rovinare un lavoro è un secondo, è un attimo. Poi abbiamo la gomma pane, che sembra di no, ma è fondamentale, ed è utilizzata per rendere i tratti quasi impercettibili, per poi appunto lavorarci sopra. Si utilizza anche per correggere delle sfumature. È una gomma soft. Ed infine, sempre parlando di gomme, abbiamo la Mono Zero Ultrafine di 2.3 mm, che è una gommina piccolina piccolina, ed è fantastica per chi è meticoloso e precisino. Con quella gomma lì fai veramente dei capolavori, ed è anche più semplice cancellare dei punti piccoli e strategici. Vi lascio tutti i materiali sotto in descrizione. Vi ricordate che ho citato anche le matite tecniche? Ecco, io ne utilizzo una in particolare, della misura 0.5, mine HB, ovviamente, ed è utilissimo se non vuoi sporcare troppo il foglio. Tra parentesi, quando disegnate con la grafite, usate sempre una protezione sotto il palmo, altrimenti vi ritrovate delle chiazze nere un po' ovunque, e rischiate di rovinare quello che avete fatto. Le matite non sono perfette, e qui giungiamo appunto sul problema che hanno le matite. Abbiamo principalmente due problemi che riguardano la grafite. La prima è che, a differenza di quel che si pensa, tutte le matite in grafite sono grigie, e non nere, anche la più scura, la 12B. La seconda è che spessissimo riflettono fin troppo la luce. Ed ecco allora che arrivano in nostro soccorso le matite grafite matte, che a differenza delle nostre normalissime matite, sono molto più opache, e consentono di realizzare dei contrasti meravigliosi. Poi, come menzionato in precedenza, c'è anche il carboncino, che è ancora più morbido ed è ancora più scuro, anche se non rientra nella famiglia delle grafite, che però è molto più difficile da utilizzare insieme ai nostri amici grigi, perché la superficie della grafite tende ad essere troppo liscia per permettere al carboncino di attecchire sul foglio. Ma ora la parte più bella, arriviamo finalmente ai tips and tricks che riguardano le matite. Per prima cosa, se si sta copiando, si sta facendo un ritratto ad esempio, è sempre bene iniziare dall'angolo in alto a sinistra, e andare verso destra. Un po' come scrivere. In questo modo, credetemi, evitiamo di macchiare il foglio. Con la 2H, che è molto chiara, do la primissima base. Poi vado a scurire in base al mio soggetto con la HB, preparo i primi mezzitoni con la 2B, o con sempre l'HB, però schiacciando un po' di più, ed infine introduco le ombre più scure con la 4B, oppure con la 8B. Quella è più soggettiva. Poi, questa in realtà è una linea generale. Nessuno vi costringe a non utilizzare tutte le 22 matite. Io spesso lo faccio anche per comodità, perché magari uso la 2B e non voglio star lì a temperarla ogni due secondi e quindi uso la 3B, per esempio. O magari perché ho bisogno di un range un po' più ampio del solito, eccetera, eccetera, eccetera. Sulle tonalità più chiare fino alla 2B, cercate di non premere troppo con la mano, affinché non sia necessario, ovviamente. Piuttosto, andate a cambiarla con una più morbida e più scura. Cercate di non cancellare troppo quando utilizzate la mano pesante per le ombre scure, perché, credetemi, quel colore lì non se ne andrà mai più dal foglio. Se invece stai viaggiando e vuoi tenere una sola matita a tua disposizione, usate una HB o una F per un buon range di chiaro-scuro. C'è anche chi consiglia la 2B, ma personalmente io la trovo troppo morbida, anche per me che ho la mano leggerissima, e rischiate di macchiare troppo. Ma cosa succede se queste stesse matite non hanno alcuna indicazione numerica stampata sull'estremità? Beh, ecco, spesso non sono matite professionali, anche se io ne ho trovate di buonissime. Prendete in considerazione che la maggior parte di queste matite saranno sempre un HB. Ok, ragazzi, per questo video sono anche fin troppe informazioni. Ci sarebbero un sacco di altri argomenti di cui trattare, soprattutto con la matita graffite. Ad esempio, l'uso delle ombre, dei solventi, l'utilizzo della texture, le diverse tecniche per comporre un'ombra, e così via. Se il video vi è piaciuto e volete che continuo questo argomento, vi invito a scrivermelo nei commenti perché io ci tengo tantissimo, vi guardo, vi leggo, e soprattutto questi format dipendono esclusivamente da voi. Hai una soglia dell'attenzione altissima se sei arrivato fin qui, grazie. E noi ci vediamo, speriamo, nel prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.